Le altre città appunto non dimenticheremo facilmente una serata bellissima trascorsa a Polvica. Abbiamo Enzo Di Lucia, consigliere comunale di Linaora, delegato appunto della frazione di Polvica. E in giuria Danny Mendez, presidente onorario non può essere che lui, Sebastiano Somma. Gli attori, Lello Radice, Giuseppe De Rosa, Alessandro Incerto, Lucia Cassini, l'avvocato Fabrizio Di Cirolamo, la nostra amica fotomodella Shaina Orua Tova. E per la Miluna, poi parleremo meglio di te Caterina, un momento tutto particolare per Miluna. Abbiamo Caterina Settembre, ogni anno presente, Monica Carannante, assessore al turismo del comune di Baccoli, l'avvocato consigliere provinciale di Avellino, Giuseppe Stiscia e Walter Ponte della provincia di Napoli, commissione e spettacolo. Questa è la nostra giuria.